benvenuti benvenuti al webinar colmare i gap informativi sulle popolazioni illusive progetti in corso e prospettive uno dei webinar della conferenza nazionale di statistica del duemilaventuno webinar che sono onorato di moderare per la rilevanza e l'importanza degli argomenti che sono di particolare rilievo per la statistica ufficiale. Il webinar si articolerà attraverso quattro interventi che potete vedere dal programma che è possibile scorrere insieme, sono quattro interventi che danno la misura della densità dei temi che andremo ad affrontare. Subito dopo aver presentato il programma darò la parola a Valeria De Martino, Valeria De Martino è la nostra responsabile per la produzione degli indicatori di povertà ma nel caso specifico interviene al webinar come nostro focal point delle attività che l'Istat conduce insieme a Lunar rivolte in particolare a colmare gap informativi relativi a popolazioni cosiddette delusive in particolar modo quelle di Roma e sinti e camminanti LGBT. Valeria quindi ci presenterà come il progetto statistico per colmare gap informativi si lega e si ancora agli obiettivi delle strategie nazionali relativi proprio a Roma e sinti camminanti ed LGBT. Eugenia De Rosa seguirà Valeria, Eugenia De Rosa è la responsabile anche lei per l'Istat come Valeria del progetto di ricerca specifico sulle discriminazioni nel mondo del lavoro verso le persone LGBT che rientra nel quadro della collaborazione tra Istat e UNAR di cui Valeria parlerà. Nadia Nur successivamente andrà al secondo tema che afferisce alla collaborazione tra Istat e UNAR sempre riferito alle popolazioni illusive quindi ci illustrerà come sta procedendo il progetto di ricerca sulle transizioni abitative e sui risultati che queste transizioni, una degli assi previsti dalla strategia nazionale Rom, sinti e camminanti, quindi ai risultati che queste transizioni hanno prodotto in termini di inclusione delle persone Rom, sinti e camminanti. Infine Federico Di Leo ci illustrerà l'ultimo punto che è l'ultimo tema relativo alle popolazioni illusive cioè ci racconterà come l'Istat sta affrontando in questo caso attraverso un progetto autonomo svolto e sviluppato sia nel passato e che sarà sviluppato anche in futuro, ci racconterà come invece affronteremo il tema delle persone senza fissa dimora e senza tetto e facendo un percorso che attraverserà anche quello che l'Istat ha già fatto al riguardo in passato il futuro delle indagini speciali che ci proponiamo di portare avanti. Ecco attraverso questi quattro interventi quindi noi cercheremo di raccontare oggi in questo seminario, in questo webinar come la statistica ufficiale, sta affrontando e ha progettato di affrontare in futuro un tema particolarmente delicato come quello appunto delle popolazioni illusive cioè le popolazioni che tradizionalmente in statistica presentano problemi di identificazione e di conteggio per le quali soprattutto dal punto di vista delle indagini campionari non esistono le liste precodificate disponibili per un'estrazione classica di un campione sul quale indagare il fenomeno che si sta cercando di investigare attraverso gli strumenti tradizionali della statistica. Quindi particolarmente importante insomma questo webinar anche per i temi che andremo eh perché per i temi che andremo ad affrontare quindi io adesso mi taccio che ho già parlato troppo e quindi darei la parola al primo dei relatori quindi a Valeria De Martino che ringrazio peraltro per l'intervento che oggi farà come ringrazio tutti gli altri sin da ora quindi le lascio la parola per il primo intervento eh in cui ci presenterà un po' la relazione tra i progetti grazie eh volevo ringraziare per l'opportunità di poter esporre questi progetti e per la loro eh comunque diffusione e per comunque tutte le persone che ci stanno ascoltando volevo salutarle eh innanzitutto possiamo dire che eh la collaborazione con Lunar che è l'ufficio nazionale antidiscriminazioni eh presso la presidenza del Consiglio festeggia ormai un periodo ultra decennale di sinergie. Infatti eh si è partiti come base per il ragionamento e per la collaborazione con Lunar dalle strategie nazionali di riferimento che hanno come Firouge la lotta alla discriminazione e all'odio razziale e al raggiungimento dell'integrazione di queste popolazioni all'interno della società civile. Le popolazioni oggetto di queste strategie sono eh la popolazione LGBT, lesbo, gay, bisex e trans e la popolazione dei rom, sinti e camminanti. Per ciò che riguarda quest'ultima popolazione la strategia di riferimento pone in atto quattro assi principali di intervento. L'asse di istruzione eh che serve a fornire gli strumenti necessari al contrasto dell'abbandono scolastico e al corretto inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi. L'asse lavoro molto correlato con l'asse precedente eh serve a evitare eh le discriminazioni nell'accesso nel mondo del lavoro e a garantire comunque che non ci siano discriminazioni nel luogo di lavoro. Per quanto riguarda l'asse abitare o l'asse abitativo eh questo asse è stato pensato per incentivare la transizione abitativa di quelle popolazioni che dagli insediamenti monoetnici passano ad altro tipo di alloggio e quindi per garantire un alloggio a tutti. Infine l'asse salute eh è ehm ipotizzato a tutelare un bene prezioso quale quello del diritto di tutti per potersi curare. Da queste tematiche naturalmente poi Lunar ha fatto nascere dei tavoli di lavoro che tuttora eh stanno producendo eh frutti per ciascun abito. Le due strategie quelle quindi per la popolazione LGBT e quella per la popolazione RSC sono nate naturalmente sotto la spinta del Consiglio d'Europa. L'ISTAT per quello eh che riguarda gli RSC ha eh dato mh modo alle sollecitazioni eh inviate dal Lunar ha dato modo eh di eh di ideare eh un primo progetto iniziato nel duemilatredici e conclusosi nel duemilasedici che ha cercato di mappare le fonti di dati che raccordano informazioni su queste popolazioni. Si è giunti quindi alla consapevolezza della mancanza di informazioni eh ufficiali su queste popolazioni che ehm soprattutto che fossero raccolte in maniera sistematica o perlomeno con una definizione armonizzata per tutte. L'analisi di questi gap informativi ha portato infatti alla costituzione sempre su indicazione di Lunar di un gruppo di lavoro informativo e statistico coordinato dall'ISTAT al quale partecipano le principali istituzioni pubbliche quali ministeri, università e associazioni e che raccoglie le esperienze e getta le basi per una serie di iniziative sul tema delle fonti statistiche dei dati su queste popolazioni. Successivamente in vista della redazione di una nuova strategia di inclusione che sarà eh che partirà nel duemilaventidue è stato proposto da una una nuova collaborazione riguardante la tematica del superamento degli insediamenti monoetnici e quindi dei della ehm studio dei progetti di transizione abitativa messi in atto dai comuni a partire dal duemiladudici. Naturalmente anche in questo caso si tratta di colmare un gap informativo importante per poter progettare e realizzare politiche di intervento mirate a risolvere questo per questa problematica. I lavori sono stati naturalmente progettati e concepiti con un respiro internazionale infatti l'ISTAT è in contatto con la fundamental right agency e fa parte inoltre del subgroup of quality data presso la commissione europea. Naturalmente la la collega Nur poi ci racconterà nel dettaglio il progetto e le azioni che ehm sono state fin qui intrapresi. La strategia invece che riguarda la popolazione LGBT eh si pone comunque eh lo stesso degli assi di intervento che vanno dall'educazione e istruzione eh per quanto riguarda la prevenzione, il contrasto dell'intolleranza e della violenza del del bullismo omofobico e transfobico. Il lavoro, l'asse del lavoro eh pone come al centro la discriminazione nell'accesso al lavoro, quindi la lotta a questa pratica e ehm la la possibilità di avere delle condizioni eh di lavoro eh paritarie per tutti non nonché alla promozione di politiche di diversity management e di azioni finalizzate all'inclusione sociolaborativa. La eh l'altro asse riguarda la sicurezza e le carceri ehm la sicurezza e la protezione della violenza per per le persone LGBT e la prevenzione del contrasto dei crimini doni. Ultimo asse è la comunicazione media poiché eh solo attraverso la conoscenza si può contrastare si possono contrastare gli stereotipi e i pregiudizi nella nella rappresentazione delle realtà LGBT che alimentano poi intolleranza e violenza. Per ciascuno di essi sono stati definiti in modo semplice e schematico degli obiettivi e delle misure specifiche da mettere in campo per promuovere la parità di trattamento e dare un impulso a quel processo di cambiamento culturale obiettivo della raccomandazione del Consiglio d'Europa. Il fenomeno quindi delle discriminazioni multiple e la trasversalità delle questioni di genere sono quindi alla base di questa strategia. Eh per quanto riguarda la popolazione LGBT l'Istat se n'è occupato nel 2011 attraverso un'indagine sulle discriminazioni. In quel frangente però si è anche reso conto della complessità dell'approccio alla stima per questa popolazione. E quindi poi nel 2017 Lunar propone nuovamente la tematica della discriminazione però declinata in questo caso in ambito lavorativo e anche questa volta l'Istat accetta la sfida anche di tipo metodologico e che eh punti ad arrivare a fornire una prima panoramica, una fotografia sulle discriminazioni sia nell'accesso al lavoro che nel luogo di lavoro e sulle politiche di diversity management attuate dalle imprese nell'ottica di una valorizzazione e inclusione della popolazione target. La collega De Rosa a questo punto ci spiegherà quindi i dettagli di questo progetto ideato dall'Istat e ci aggiornerà sugli step avviati e conclusi. I progetti vedono la partecipazione in fase di progettazione, in fase di svolgimento delle associazioni rappresentanti per queste popolazioni. Quindi nel caso dei rom sinti e camminanti partecipano i rappresentanti della piattaforma delle associazioni RSC eh istituita presso luna. Mentre eh nel caso delle popolazioni LGBT sono state coinvolte alcune associazioni che fanno parte del tavolo di consultazione permanente per la promozione dei diritti e la tutela delle persone LGBT che è stato istituito presso il Dipartimento Pari Opportunità. Inoltre questi progetti hanno ehm avuto anche una valenza eh internazionale poiché sono stati presentati presso l'UNECE, quindi l'United Nation Economic Commission for Europe eh soprattutto nel subgroup delle Art to Rich Population. Quindi non voglio rubare tempo alle colleghe e vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al moderatore. Grazie. Valeria grazie, grazie per eh questa visione un po' generale no dell'attività che stiamo conducendo in relazione con una. Era molto importante proprio per inquadrare i due interventi successivi. Quindi io darei subito la parola a Eugenia De Rosa che segue nello specifico il progetto relativo alle discriminazioni nel mondo del lavoro nei confronti delle persone LGBT in modo tale che ci presenta qualche dettaglio in più. Eugenia. Salve a tutti e a tutte appunto come anticipato eh nel mio intervento farò un po' il punto di questo progetto che l'Istat sta realizzando in collaborazione con UNAR e che ha come oggetto e tema principale le discriminazioni lavorative nei confronti delle persone LGBT. Eh condivido la presentazione e il progetto ha un obiettivo ampio e importante che è intanto quello di eh fornire dei dati e delle informazioni su eh gruppi di popolazione che sono eh scarsamente rappresentati dalla statistica ufficiale non solo in Italia ma anche in altri contesti e più in generale di fornire un quadro informativo da una parte su quelle che sono le forme di discriminazioni, minacce e aggressioni che le persone LGBT possono aver subito in particolare nell'ambito lavorativo e dall'altro sulle politiche che in Italia sono state attivate e implementate in ambiti lavorativi proprio per valorizzare e includere le diversità LGBT. Eh per rispondere a questi obiettivi il progetto che l'Istat sta realizzando in collaborazione con l'UNAR si compone di più indagini che sono indirizzate a differenti attori proprio per cogliere il fenomeno oggetto di indagine da più prospettive. Questi attori sono gli stakeholder, i datori di lavoro in particolare le imprese e le persone LGBT per cogliere poi l'esperienza diretta. Eh in particolare il progetto si articola in due macro aree. La prima macro area ha previsto una realizzazione di interviste qualitative ai principali stakeholder nazionali appartenenti a differenti realtà e quindi le associazioni datoriali, i sindacati, associazioni LGBT, organi di parità e eh un questionario sul tema specifico delle politiche di diversity management nelle imprese che è stato inserito in due indagini esistenti eh dell'Istat e attive appunto all'interno dell'Istat. Eh tutta questa macro area è stata completata eh mentre stiamo realizzando e portando a compimento una seconda macro area che invece punta a raccogliere l'esperienza diretta delle persone LGBT attraverso anche qui una serie di indagini indirizzate a differenti target di eh popolazioni LGBT. Nel complesso quindi il progetto si caratterizza per un approccio di ricerca di tipo misto e quindi quanti qualitativo per un importante coinvolgimento delle associazioni LGBT in differenti fasi. Eh il confronto in particolare con queste associazioni è stato molto importante anche nel eh definire ehm gli indicatori di eh orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e discutere anche sulle modalità migliore per rilevare tali informazioni e in questo modo il progetto ha rappresentato un'occasione importante per l'Istat per portare un'esperienza anche in ambito internazionale nel dibattito che eh che è in corso in ambito europeo internazionale proprio sull'inserimento di questi indicatori nell'ambito di indagini sociali. Eh come dicevo la prima parte del progetto rivolta a stakeholder delle imprese è terminata i primi risultati, i principali risultati sono stati pubblicati in un report congiunto Istatunar pubblicato a novembre duemilaventi. In particolare il questionario che è stato somministrato alle imprese con almeno cinquanta dipendenti dell'industria e dei servizi ha fornito per la prima volta in Italia un quadro nazionale delle politiche di diversity management eh evidenziando come m misure di questo tipo non obbligatorie per leggi eh indirizzate alle diversità per orientamento sessuale e identità di genere siano quelle tra gli ambiti indagati meno frequenti. Eh di fatto appunto è emerso che il cinque virgola uno per cento delle imprese con almeno cinque cinquanta dipendenti ha realizzato misure per le diversità LGBT eh laddove gli ambiti appunto prevalenti sono risultati la disabilità e il genere. Eh rispetto alle diversità LGBT eh le misure maggiormente adottate dalle imprese sono quelle rivolte alle persone lavoratori transgender e la dimensione di impresa si è ehm costituisce un fattore discriminante un fattore molto importante perché la percentuale passa da quel cinque virgola uno al quattordici virgola sei quando le imprese hanno almeno cinquecento dipendenti. Eh da segnalare il dato di un due virgola nove per cento di imprese che pensa di adottare imprese che non hanno ancora adottato misure per le diversità LGBT e che pensano di adottarle nei prossimi tre anni. Eh passando alla seconda appunto macro area e quindi alla parte che vuole andare a cogliere il fenomeno direttamente sulle persone LGBT il progetto appunto prevede eh tre differenti indagini condotte tutte con un questionario autocompilato auto identificazione delle persone come LGBT e mh tramite una tecnica appunto i CAUI. Eh le indagini sono indirizzate a tre differenti target. Eh lo scorso anno è stata condotta una indagine rivolta a tutte le persone in unione civile o unita in passato quindi un'indagine totale da lista anagrafica comunale che ha riguardato oltre ventunomila persone. Eh il risultato è stato eh soddisfacente e a breve verranno pubblicati i risultati in un report congiunto sempre ISTAT owner. Eh una seconda indagine che è in fase di avvio è indirizzata invece alle persone omosessuali e bisessuali iscritte non alle associazioni LGBT che non sono però unite civilmente non lo sono state in passato. Eh con questa indagine eh si eh utilizzerà una tecnica che eh dall'ISTAT finora non è stata utilizzata ed una tecnica di campionamento probabilistico che utilizza i legami sociali, sfrutta i legami sociali tra le persone che si chiama respondent driven sampling con l'obiettivo di addivenire a dei risultati che sono generalizzabili. A completare questo quadro vi è poi un approfondimento rivolto in maniera specifica appunto alle persone trans e transgender che utilizzano degli sportelli che sono dedicati a questo tipo di utenza. Per quanto riguarda le principali tematiche questa slide mostra quelle che sono appunto le sezioni principali e i fenomeni indagati eh nei questionari delle prime due indagini e quindi dopo eh aver chiesto una serie di informazioni relative alle caratteristiche socio-demografiche, allo status socio-economico del del rispondente, le persone sono state chiamate a indicare una serie di informazioni, a fornire una serie di informazioni sulla propria condizione lavorativa e poi a ripercorrere a partire dalla fase di istruzione, scuola, università, eh possibili esperienze vissute di eh discriminazione per passare alla fase di accesso al lavoro, alle esperienze sul lavoro, andando a cogliere non solo la discriminazione più forte ma anche quelle forme meno tangibili che rinviano alle relazioni tra colleghi, all'ambiente appunto di lavoro e a quelle che in letteratura vengono definite microaggressioni. Altri fenomeni indagati sono le minacce e le aggressioni e la percezione che le persone hanno della discriminazione eh in Italia e quali possono essere le azioni per migliorare la situazione sia in ambito lavorativo che più in generale. Eh per fare il punto del progetto come dicevo è adesso in fase di avvio la seconda indagine rivolta appunto alle persone non unite civilmente tramite questa tecnica respondent driven sampling. I primi rispondenti verranno individuate dalle associazioni LGBT che partecipano al progetto. Dopodiché saranno i rispondenti stessi che oltre ad avere il ruolo di compilare il questionario inviteranno altre persone a partecipare all'indagine, persone che appartengono alla popolazione target. Eh la caratteristica appunto di questo tipo di tecnica è che se vengono soddisfatti alcuni requisiti i risultati che noi otterremo sui fenomeni appunto indicati prima consentiranno di avere dei risultati generalizzabili. Eh a completare questo quadro verrà poi avviata una terza indagine eh di tipo più qualitativo su un campione qualitativo rivolto alle persone trans e transgender. Questa indagine ha previsto una fase preliminare di mappatura di servizi e sportelli cui si rivolgono eh queste persone e anche una progettazione ad hoc del questionario proprio per adattare tutte quelle tematiche che fanno riferimento al coming out, alla gestione dell'identità di genere, alle relazioni eh sul lavoro, alla specificità della condizione di una persona trans e transgender. E con questo ho concluso il quadro appunto del progetto in corso e se avete informazioni, domande, avete bisogno di informazioni o richieste di chiarimento potete appunto scrivere al mio indirizzo di posta elettronica. Bene, Eugenia grazie eh direi che nella tua presentazione ci hai offerto parecchio materiale insomma su cui ragionare soprattutto credo che nell'ambito del tuo progetto si sia proprio evidenziato il carattere fortemente innovativo che hanno le tematiche che stiamo affrontando e le sfide anche con le quali ci stiamo misurando che obiettivamente sono anche sfide eh nuove per la stessa statistica ufficiale per l'Istat e per tutti coloro che con l'Istat stanno collaborando a questi tempi. Quindi di sfida in sfida direi che passiamo la parola a Nadia Nur eh che è la responsabile dell'altro progetto che fa riferimento al quadro di collaborazione tra Istat e UNR e quello riferito alle popolazioni rome sinti e camminanti che ci racconta un po' come cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo in animo di fare in questo ambito. Nadia date la parola grazie. Grazie, grazie Federico, grazie a tutti voi. Allora innanzitutto vorrei precisare che ehm gli obiettivi della ricerca sui rome sinti e camminanti non sono di tipo censuario ma attraverso un approccio quali quantitativo si vogliono raccogliere delle informazioni sulle condizioni di vita e sull'inclusione delle persone rome sinti e camminanti a rischio di vulnerabilità abitativa ai fini di costruire un set di indicatori utili a comprendere l'impatto della strategia nazionale di inclusione ma anche eh utili per la costruzione della prossima strategia. Eh si è scelto quindi di concentrarsi su uno dei quattro assi della strategia nazionale di inclusione quello dell'abitare che eh è considerato uno snodo fondamentale nel processo di superamento del disagio sociale e dell'inclusione delle popolazioni RSC. Chiamiamole RSC per brevità. Eh il presupposto eh è che l'inclusione abitativa sia direttamente correlata con l'accesso al lavoro, all'educazione, ai servizi sanitari e sociali. A livello metodologico abbiamo scelto di effettuare dapprima una indagine pressi comuni con una popolazione di almeno 15.000 abitanti ai fini di mappare gli interventi volti a favorire la transizione abitativa dagli insediamenti verso alloggi stabili e abbiamo mappato tutti i progetti messi in atto nel periodo 2012-2020 ovvero eh gli anni in cui la strategia è stata attiva. Eh sulla base delle evidenze raccolte la fase successiva della nostra ricerca analizzerà invece l'impatto di questi interventi di transizione abitativa dal punto di vista delle famiglie che hanno lasciato gli insediamenti e che sono transitate verso altre forme abitative come per esempio alloggi popolari o reperiti sul mercato privato. Contemporaneamente negli stessi territori quindi nei comuni che hanno realizzato i progetti di transizione e che quindi abbiamo individuato con la prima indagine saranno intervistate anche le famiglie che eh risiedono ancora negli insediamenti ovviamente laddove eh ne siano rimasti. Questa fase della ricerca naturalmente comporta qualche difficoltà eh perché raggiungere le persone che abitano in condizioni di eh informalità abitativa eh comporta a livello di raccolto dei dati alcune difficoltà per cui eh utilizzeremo degli approcci magari anche innovativi. Eh questa seconda indagine avrà principalmente l'obiettivo di fornire un quadro sulle principali variabili sociodemografiche quindi età, sesso, titolo di studio eh condizioni lavorative sulle condizioni abitative che quindi riguarderanno le caratteristiche dell'alloggio eh le dotazioni eh degli alloggi, le eventuali problematiche sia degli alloggi che degli insediamenti eh indagherà anche sulle condizioni di vita, sull'accesso eh ai servizi quindi trasporti, ospedali, scuole, eccetera. La comparazione fra ehm le due diverse situazioni servirà poi all'elaborazione di questo set di indicatori che consentiranno di valutare il divario in termini di inclusione tra ehm le persone che eh vivono nelle abitazioni e quelle che vivono ancora negli insediamenti. Ospicabilmente eh questi indicatori potranno sintetizzare informazioni in merito ai processi di inclusione in relazione ai quattro assi della strategia quindi all'istruzione, al lavoro, abitare e alla salute. Eh adesso vorrei eh fornire sommariamente senza entrare nel dettaglio qualche dato emerso dai risultati di questa prima indagine che abbiamo effettuato sui comuni. eh l'abbiamo effettuato nel duemiladiciannove alla fine del duemiladiciannove con tecnica CAUI e la prima cosa che è emersa è che eh quarantadue comuni hanno avviato progetti dopo il duemiladodici per un totale di novantasei progetti di transizione. Eh le famiglie beneficiarie ehm sono eh risultate oltre mille e trecento mentre le persone effettivamente transitate alla data della nostra indagine eh risultavano oltre tremila e cento. Quindi questo più o meno è ehm l'universo a cui noi ci riferiremo per le indagini che eh dovremo ancora realizzare. Oltre alla consistenza numerica dei progetti delle persone transitate, di quelle che ancora risiedono agli insediamenti eh e alle informazioni sulla tipologia di alloggio, di provenienza e di destinazione, abbiamo rilevato anche ovviamente altri elementi utili a fotografare eh gli esiti e le criticità di questi interventi di transizione. Il questionario prevedeva infatti quesiti eh relativi all'impianto organizzativo dei progetti di transizione eh sugli altri soggetti eventualmente coinvolti, sull'esistenza di misure di accompagnamento e sulle difficoltà incontrate nella gestione operativa o amministrativa dei progetti. Eh dando solamente qualche dato flash, eh i tre quinti degli interventi eh delle amministrazioni comunali prevedevano una transizione verso alloggi di edilizia residenziale pubblica. Anche in molti casi facendo ehm fornendo un supporto per esempio alla compilazione della modulistica per eh l'accesso alle graduatorie dell'emergenza abitativa. Nei due quinti dei progetti invece sono stati previsti eh solamente alloggi reperiti sul mercato immobiliare. Eh emerge inoltre che eh alla base della progettazione della realizzazione dei progetti l'individuazione di azioni multisettoriali così come ehm l'azione su diversi ambiti previsti alla strategia possano contribuire a una maggiore completezza poi sul piano dell'inclusione. Tra gli elementi di forza che abbiamo individuato nei progetti eh infatti eh rientrano le misure e gli interventi di accompagnamento. Per esempio l'accompagnamento all'autonomia abitativa, la prevenzione e la gestione dei conflitti con il vicinato o con la popolazione eh in generale. Il sostegno alla regolarizzazione dello status legale che è anche un elemento eh fondamentale perché senza questa regolarizzazione le persone non riescono ad accedere al ai progetti quindi a partecipare. Eh altre misure di accompagnamento sono state il contributo economico una tantum oppure un contributo economico ehm eh erogato per un periodo di tempo limitato utile a pagare il canone di locazione. Eh tre quinti dei progetti di transizione abitativa contemplano almeno due ambiti d'azione tra quelli previsti della strategia nazionale, mentre invece meno di due quinti dei progetti prevedono in via esclusiva come ambito di azione quello relativo all'abitare. Altri elementi caratterizzanti che abbiamo individuato riguardano la presenza di attività di monitoraggio o di valutazione oppure il coinvolgimento di eventuali altri partner eh provenienti per esempio dal terzo settore oppure il coinvolgimento dei servizi sociali che hanno un ruolo molto importante. Ehm naturalmente ci sono anche molte criticità che le amministrazioni comunali si trovano a dover affrontare come la difficoltà nel reperire alloggi da destinare ai progetti di transizione, la difficoltà da parte dei beneficiari eh nel sostenere le spese per l'abitazione oppure problemi legati anche alla gestione amministrativa. Un altro ordine dei problemi riguarda anche la convivenza con il vicinato o episodi di contestazione da parte della cittadinanza. Quindi nonostante eh gli sforzi eh che i comuni hanno eh profuso nella nel tentativo di superare gli insediamenti e nel mettere in campo eh questi progetti ehm emerge una difficoltà da parte di molte amministrazioni comunali nel mettere in campo delle politiche volte ehm al superare eh nel lungo periodo gli insediamenti. Questa criticità è evidenziata anche dalla permanenza di trecentosettantatré insediamenti in cento ventisei comuni alla data della nostra indagine. Tra questi molti non sono mai stati interessati a progetti di transizione. Adesso io vi ho dato solamente dei dati sommari. I dati completi di questa prima indagine sono raccolti in un ebook curato da me dal gruppo di ricerca quindi Valeria Di Martino e Valessa Ioannoni eh il titolo dell'ebook è abitare in transizione e scaricabile dal sito dell'Istat. Un piccolo aggiornamento al momento stiamo completando la predisposizione dei questionari per le famiglie transitate e per quelle che risiedono ancora negli insediamenti e abbiamo effettuato un aggiornamento dai dati raccolti precedentemente presso i comuni e stiamo pianificando l'organizzazione per andare sul campo nel duemila e ventidue sia nelle abitazioni sia negli insediamenti. Vi ringrazio per l'attenzione e cedo di nuovo la parola a Federico. Nadia grazie eh anche qui direi che come abbiamo visto un po' nella presentazione di Eugenia no il parziale ma già importante quadro informativo che ci restituiscono le azioni che abbiamo messo in campo negli ultimi due anni ehm ci restituisce abbiamo insomma un quadro di luce e ombre direi no con risultati che sono stati ottenuti dalle strategie in alcuni casi molto parziali e con avanzamenti purtroppo circoscritti eh però ecco credo che la cosa importante che stia emergendo è che finalmente cominciamo ad avere dei dati su cui si può ragionare soprattutto dei dati da offrire ai policy maker i cosiddetti policy maker per poter eh pensare vedere valutare quali sono stati poi i risultati ottenuti dalle strategie che sono state messe in campo e che Valera all'inizio ci ha illustrato. Ora eh voltiamo un po' pagina nel senso che abbiamo finora parlato dei progetti condivisi nel quadro di collaborazione tra Istat e Unar e passiamo invece a parlare di un'altra popolazione che direi elusiva per eccellenza quella degli homeless eh a cui Istat ha già dedicato un'attenzione specifica attraverso delle indagini statistiche ad hoc che sono state sviluppate eh ormai un pochino di anni fa l'ultima del duemilaquattordici ma eh su cui continuiamo ad avere una particolare attenzione eh quindi eh non aggiungo altro darei la parola a Federico Di Leo che è responsabile di questa linea di lavoro per per l'Istituto e ci racconterà un po' che cosa abbiamo fatto che cosa soprattutto abbiamo in animo per il futuro per colmare anche qui un importante gap informativo che abbiamo nel nostro paese. Federico ti do la parola. Grazie. Grazie Federico saluto chi segue questo webinar che mi sembra un'occasione significativa per parlare di queste popolazioni sia elusive ma altrettanto fondamentali per le politiche di contrasto a una serie di problematiche. Nel caso dei delle persone senza tetto parliamo di contrasto a una condizione di povertà estrema che tante volte sfugge ad altri tipi di statistiche altrettanto consolidate come può essere la povertà assoluta. Quello che io farò eh con voi sarà di seguire un po' il passato di queste indagini ma anche capire qual è la prospettiva e mi accompagneranno a questa eh mia presentazione alcune diapositive che mi accingo a condividere. Eccoci qui. Eh le persone eh del titolo di questa mia presentazione sono persone senza fissa dimora e senza tetto. In realtà già dal titolo di questa mia presentazione emerge una questione fondamentale di cui poi parlerò più in dettaglio. Eh in questa presentazione inizierò da analogie e differenze nel parlare di persone senza fissa dimora, senza tetto e senza dimora. Ricorderò la ricerca nazionale, la prima fatta nel duemila undici come contrasto appunto a questo forma di povertà estrema. L'indagine di follow up che è stata fatta nel duemila e quattordici e poi diciamo l'accostamento che può essere fatto tra queste indagini eh speciali e il censimento del duemila e undici. E a questo punto una volta avvicinati questi due tipi di approcci, uno diciamo più di conteggio e un altro più di investigazione non soltanto sulle dimensioni del fenomeno ma anche sulla situazione, parlerò di quello che è il futuro di questo tipo di indagine sulle persone senza dimora. Innanzitutto eh vorrei fare una precisazione di natura eh definitoria che è particolarmente significativa nel momento in cui ci accingiamo a fare eh delle statistiche, dei conteggi, delle analisi. Quando si parla di persone senza fissa dimora si fa riferimento alla legge anagrafica e quindi a coloro che non hanno in alcun comune una dimora abituale che è necessaria per l'accertamento della residenza. Quindi si tratta di una definizione puramente anagrafica. E quindi che include girovaghi, artisti eh che lavorano in prese di spettacolo come i circensi, commercianti artigiani e ambulanti. Anche se poi all'interno dei dei registri statistici anagrafici insieme a queste persone diciamo che abbiamo eh che non hanno fissa dimora esistono anche i cosiddetti senza tetto. Seconda la classificazione eh sui senza tetto, la classificazione ethos, si definiscono come persone eh senza tetto, coloro che vivono in strada o in sistemazione di fortuna e che eh non hanno un'abitazione fissa e dunque frequentano dormitori e varie soluzioni abitative per eh periodi eh limitati e comunque non definitive. Accanto a queste ci sono le persone senza dimora. Anche questa definizione rientra in questa classificazione europea e sono persone che vivono in una condizione di disagio abitativo. Quindi vivono in ostelli o ricoveri eh temporani o alloggi diciamo per il supporto sociale per persone sia singole che per coppie o gruppi. Questa classificazione ci aiuterà un po' a capire che ricerca è stata fatta fino adesso. La prima ricerca nazionale è stata condotta nel duemila e undici e grazie a una convenzione stimolata dall'Istat insieme al Ministero del Lavoro, la Federazione Italiana degli Organismi delle Persone Senza Dimora e la Caritas Italiana. Ha riguardato non le persone senza fissa dimora, ma le persone senza tetto e senza dimora eh secondo la classificazione precedente. Il che non vuol dire che nella statistica non fossero comprese anche persone senza fissa dimora. e eh questa indagine è stata fatta con una serie di moduli progressivi. Il primo modulo prevedeva un censimento dei servizi eh specifici per le persone e quindi diciamo soprattutto menze e dormitori e poi una seconda indagine conoscitiva campionaria sulle persone che frequentavano questo tipo di eh eh luoghi eh per persone senza dimora. E nel duemila e undici fu stimata una popolazione di quarantasettemila seicentquarantotto persone senza dimora che vivevano non in tutta Italia ma nei centocinquattotto maggiori comuni italiani. In realtà eh esaminare questi comuni significa anche eh arrivare a una stima che è superiore al novanta per cento della stima nazionale perché si tratta di una condizione che è particolarmente frequente eh nelle aree metropolitane nei grandi centri. Nel duemila e quattordici è stata fatta una seconda ricerca che è da considerarsi un follow up della prima che ha permesso di aggiornare sia la banca dati sia ehm una stima delle persone effettuate e eh è stata stimata una popolazione di eh senza dimora leggermente superiore ovvero sia cinquantamila settecentoventiquattro persone che nei mesi di novembre e dicembre duemila e quattordici hanno utilizzato almeno un servizio di menso accoglienza notturna sempre nei centocinquantotto maggiori comuni italiani. Nel duemila e undici è stato anche pubblicato il censimento generale della popolazione e il conteggio in questo caso non fa riferimento alle persone senza dimora ma hai senza tetto e senza fissa dimora. Eh è una distinzione che in realtà eh evidenzia un campo d'osservazione eh anzitutto un campo definitorio diverso che è parzialmente sovrapponibile a quello dell'indagine speciale ma non del tutto. Eh inoltre anche il campo d'osservazione è differente perché il censimento per sua natura è esaustivo quindi prendeva in considerazione tutti i comuni italiani e naturalmente oltre alle differenze metodologiche di campo d'osservazione tra censimento e isagini speciali c'è una grande differenza in termini di tecnica di rilevazione perché il censimento eh fa ricorso soprattutto a ehm a registri amministrativi. In particolare nelle LAC le liste anagrafiche comunali senza detto eh presenti sono sia iscritti a un indirizzo convenzionale ehm a Roma e per chi vive a Roma è noto l'indirizzo di via Modesta Valenti ma in quasi tutti i principali eh comuni italiani esiste un un indirizzo convenzionale e sempre nelle LAC ci sono gli iscritti presso strutture di accoglienza ehm che vengono poi raccolti e confluiscono in questo questa stima sui senza detto e senza pista di mora. Per il censimento è stata fatta anche una rilevazione sul campo con degli appositi rilevatori spesso assistiti da agenti comunali quindi si è trattato di una rilevazione sul campo diversa da quella effettuata con dei rilevatori eh specifici per il fenomeno in esame come nelle intagini speciali dell'Istat. Le differenze eh di definizione di universo e quant'altro rendono eh le due statistiche consistenti in se stesso in se stesse ma difficilmente confrontabili tant'è che nel duemila e undici sono state censite eh poco più di trentaquattromila persone senza tetto e senza pista di mora che è un numero che si va a confrontare con quei 40 e più mila persone stimate con indagini speciali. Qual è il futuro? Eh l'approccio seguito dalle due indagini speciali e i risultati prodotti sono un punto di riferimento soprattutto per le politiche di contrasto alla povertà estrema e e gran parte dei stakeholders diciamo degli enti sia pubblici che non pubblici sono interessati a un aggiornamento di questa indagine speciale perché eh da quell'indagine nascono una serie di politiche attive che sono riguardano sia il territorio nazionale che i singoli comuni. D'altra parte anche il censimento eh si sta attrezzando per migliorare quali sono state le proprie statistiche e in particolare per migliorare l'accuratezza delle informazioni amministrative per evitare di avere all'interno delle delle proprie statistiche persone che eh pur appartenendo alla casistica dei senza fissa dimora non appartengono a quelle delle persone in povertà estrema perché ad esempio ci sono persone che hanno iscrizione anagrafica ai registri convenzionali che in realtà vivono in una casa eh in una casa diciamo eh senza particolari disagi. Ehm inoltre diciamo è evidente sia per noi come istat ma per tutto eh l'informazione statistica l'importanza di avere un conteggio unico ed uno studio aggiornato delle persone senza dimora sia per avere un numero sia per avere le loro caratteristiche socioeconomiche di questa che è una popolazione diciamo hard to count per come anche quella illustrata dalle dalle colleghe De Rosa e Nur in precedenza. In particolare in questo caso è stata avviata una collaborazione tra le direzioni del welfare del censimento dell'Istat per giungere nel duemila e ventitré ad un conteggio ed una statistica comune armonizzando le definizioni utilizzando in maniera congiunta e accorta le informazioni amministrative aggiungendo un'indagine point in time della situazione nelle quattordici città metropolitane differenti da come è stata fatta nel censimento 2011 ovvero sia se possibile con l'ausilio di eh rilevatori eh specializzati per il tipo di fenomeni in esame. E alla fine si spera si possa aggiungere alla diffusione di un dato unico e di una statistica unica quindi sia dal punto di vista del welfare sia dal punto di vista del censimento eh di una popolazione che è davvero importante per tanti interventi che sono sono stati fatti e che si crede si vogliono fare per aiutare una popolazione che vive una condizione di disagio grave. Io vi ringrazio per avermi seguito sono grazie ancora per l'opportunità di partecipare a questo webinar eh nell'ambito della conferenza nazionale di statistica e anche nel mio caso chi mi vuole contattare per chiarimenti eh ho lasciato la mia mail. Grazie. Bene grazie Enrico. Siamo in conclusione, in chiusura del webinar e non abbiamo tempo per poter approfondire tanti dei temi che sono stati sviluppati, se no sarebbe interessante anche un primo giro anche di commenti da parte dei diversi relatori. Dico solo due parole eh per concludere e perché credo che è bene sottolineare come questi tre progetti eh due dei quali unificati dalla collaborazione che ci vede impegnati insieme con UNAR siano legati tra di loro da un obiettivo comune che è quello della statistica ufficiale dell'Istat in particolare e cioè di eh restituire un quadro informativo della società del nostro paese, della realtà sociale del nostro paese eh più completo e più inclusivo. Eh l'Istat è già impegnata su questi terreni da anni, su pari fronti, però mancano alcuni tasselli che sono di grande importanza e che sono quelli che sono stati toccati dagli interventi dei relatori che si sono susseguiti. Eh un obiettivo molto ambizioso, molto importante e che come avete potuto vedere dagli interventi propone anche delle sfide sotto il profilo del metodo perché le metodologie statistiche che siamo chiamati a utilizzare proprio per la finalità di rappresentare eh la condizione, le caratteristiche di queste cosiddette popolazioni illusive eh quindi le metodologie non sono quelle usuali e tradizionali e ne stiamo mettendo in campo anche alcune di particolarmente innovative. Eh la seconda cosa poi eh andiamo alla conclusione, la seconda cosa su cui mi vorrei soffermare, su cui vorrei richiamare l'attenzione di tutti voi che state seguendo questo webinar è che in particolar modo i due progetti presentati da Eugenia De Rosa e Nadia Nure, quelli relativi a Roma e Sinti Camminanti e LGBT si confrontano con un quadro normativo particolarmente importante e delicato che è quello segnato dal regolamento sulla protezione dei dati personali. Ecco io eh vorrei sottolineare questo contesto perché eh il tema dei dati particolari o ex dati sensibili o dati che una volta si chiamavano sensibili è un tema che per quel che riguarda le indagini che come vedete come avete potuto capire fanno riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'appartenenza etnica, il tema si propone con molta con molta forza e quindi l'attenzione ecco e anche eh gli strumenti che ha messo in campo l'Istat per affrontare questi problemi anche su o anche sotto questo profilo sono particolarmente importanti e particolarmente eh e particolarmente impegnativo. Mh direi che possiamo concludere qui ci sarebbero molte altre cose da dire. I relatori eh che ringrazio ringrazio Valera, ringrazio Nadia, ringrazio Eugenia e ringrazio Federico sono a vostra disposizione, le loro email sono state rese disponibili e comunque sono facilmente rintracciabili sui nostri siti, sul sito dell'Istat e e quindi ringrazio tutti voi che avete assistito, avete seguito i lavori di questo eh webinar augurandoci che ci siano altre occasioni eh di confronto nel quale approfondire che i temi, i temi che oggi sono stati eh presentati. Quindi grazie a tutti nuovamente. Grazie. 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 Grazie.